E' in pieno svolgimento il tam-tam di voci per capire chi sarà il nuovo allenatore della casertana in base anche alle ultime dichiarazioni del presidente d'Agostino e del direttore sportivo Martune. Secondo il top management rosso-blu, il nuovo tecnico non solo deve condividere a 360 gradi il progetto, ma deve rispecchiare alcune prerogative. Non essere campano, non avere affatto esperienze da calciatore o da allenatore tra i falchetti, non richiedere la luna dal punto di vista economico, aver allenato in B e in Lega Pro ed anche un'età tutto sommato giovane. I profili che sembrano avvicinarsi sono quelli di Gianluca Festa, Beppe Scienza e infine Luca Prina. Tutti sono accomunati da un altro fattore, sono pronti a compiere la loro prima esperienza al sud ed amano soprattutto lavorare con un gruppo formato dal giusto mix di giovani ed esperti. L'intenzione della Paganese è quella di trattenere diversi giocatori arrivati in prestito a gennaio come De Santis, Tascone e Firenze. Tutti e tre si sono trovati bene a Pagani e avrebbero manifestato la volontà di trascorrere un'altra stagione in azzurro stellato, così come altri calciatori che però difficilmente saranno riconfermati. Ma bisognerà vedere cosa decideranno le società che ne detengono i cartellini. Per cui Bocchetti parlerà col Milan per il difensore pugliese, ma anche per Mauri, altro giocatore che la Paganese vorrebbe trattenere. Discorso più avviato per Tascone di proprietà del Genoa, mentre per Firenze c'è da battere la concorrenza di club di serie B tipo la Salernitana. In casa della Juve Stabia tutto fermo per quanto concerne il futuro. L'unica cosa scontata è che non si continua con Guido Carboni sulla panchina che venne ritenuto tra i colpevoli per l'eliminazione dei play-off.